Sicuramente ci sono delle opere per cui il mio lavoro è più conosciuto rispetto ad altre magari ci sono delle opere che non sono meno conosciute che per me hanno importanza come le altre, quelle più conosciute però ovviamente l'immagine a cui vengo associato sono gli alberi e poi io so che il problema di quel lavoro non è soltanto l'albero come forma ma è la comprensione dell'albero come scultura come dicevo prima quindi il mio è un problema di scultura però da un punto di vista iconografico sicuramente il mio lavoro viene associato all'albero quindi posso dire benissimo che è l'albero che mi identifica ma io non ho il tempo libero nel senso che il lavoro che faccio è un lavoro che mi appaga e quindi è questo il mio tempo libero ma per me è stata una gioia e un grande onore è un qualcosa che mi ha naturalmente fatto molto piacere ed è anche, mi rendo conto che è un privilegio straordinario quello che ho avuto mi aiuta oppure mi conferma mi spinge a continuare a lavorare come ho fatto finora grazie a tutti